Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Antonella Fiordelisi è molto attiva sui propri profili social che utilizza come una specie di diario personale. Infatti, l'ex Geffina pubblica moltissimi contenuti inerenti al suo lavoro di modella e, ora, anche di creatrice di gioielli ma, allo stesso tempo, racconta ai suoi fan tutto ciò che succede nella sua vita sentimentale. Un esempio su tutti. Quando la sua storia con Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea, la modella ha pensato di fare una diretta social. Sarà indirizzata dunque all'ex fidanzato con la frecciatina sotto il suo ultimo post Instagram. Antonella Fiordelisi ha pubblicato una serie di foto, in cui indossa un paio di jeans a vita bassa e un cropped up in denim attillatissimo. La didascalia recita, vogliono fermarmi ma non sanno correre. Inoltre, l'ex Geffina ha pubblicato alcune storie in cui riprende il suo stesso post e scrive. Il mio cappellino vi risponderà. L'accessorio, infatti, è azzurro e riporta delle stampe bianche con suo scritto, fuck you, ovvero vaffanculo. I follower di Antonella si sono, quindi, chiesti se la frecciatina fosse diretta a qualcuno in particolare, dato che, dopo la rottura con Edoardo Donnamaria, l'influencer non è più tornata sull'argomento. Inoltre, in una delle ultime storie, la modella inquadra lo skyline di Milano e scrive, ci vuole coraggio a scegliere la solitudine.